Come dice la scrittura che i cieli, la terra passano, ma la parola di Dio non passa mai. Abbiamo bisogno, noi, voi, abbiamo bisogno di conoscere quello che Dio vuole dire al nostro cuore. Io ho aperto il mio cuore a Dio, ho deciso di seguirlo, ho deciso di fare la sua volontà, ho fatto un'esperienza personale mia con Dio. E' importante che io e te stiamo vicino alla Bibbia, la parola di Dio che è creativa, che è vivente, che ci parla di Dio, del suo piano, del suo amore. Ed è una parola che ci conquista, una parola che ci coinvolge, una parola che ci trasmette amore. Grazie. 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 Grazie.